E3 2014 siamo qui ancora nello stand Nintendo per provare un'altra delle esclusive che arriveranno su Wii U nel corso della prossima stagione videoludica. Stavolta abbiamo messo le mani su Kirby, il titolo è ancora provvisorio ma il concept di gioco è già ben esplicito. In pratica questa nuova avventura della pallina rosa di casa Nintendo che arriverà sulla sua home console è chiaramente ispirata ad uno dei grandi capolavori dell'epoca del primo DS. Quel Kirby Canvas Course che ci aveva appunto incantato grazie alle sue dinamiche originali e innovative. Se ben vi ricordate all'epoca l'obiettivo del giocatore era quello di indirizzare proprio il viaggio di Kirby disegnando sul touchscreen della console un percorso su cui poi il protagonista avrebbe potuto scivolare. Qui il concept è ripreso integralmente e stavolta dovremo quindi disegnare utilizzando il touchscreen del gamepad di Wii U. Si sottolinea anche uno stile veramente delizioso con dei livelli composti da elementi che sembrano modellati grazie alla plastilina. Le meccaniche di gioco sono molto particolari mescolano certi momenti platform ad altre sezioni che sembrano uscite invece da un puzzle game serve ritmo, prontezza di riflessi e anche un po' di fantasia. Insieme al nuovo capitolo di Yoshi anche questo Kirby ci ha incuriosito e non vediamo l'ora di provarlo in una versione definitiva. Vi lasciamo quindi alle immagini di questa ennesima esclusiva Nintendo Wii U. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti